A Pizzo la seconda tappa dell'iniziativa dei 5 Stelle Acquaraggia, un tour nelle principali città calabresi per sensibilizzare l'opinione pubblica su una tematica che interessa tutti, ma anche l'occasione per presentare la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, Carmen Manduca. L'incontro promosso dai deputati di Paolo Parentere e D'Alila Nesci si è svolto al Museo della Tonnara, alla presenza tra gli altri dell'Avvocato Angelo Calzone. Il responsabile del WWF si è soffermato sul grande invaso dell'Alaco che distribuisce acqua in molte case del Vibonese e del Catanzarese. Guardi, io mi sono rifatto agli accertamenti che ho più dei consulenti tecnici nominati dalla Procura di Vibolenza nel procedimento penale che è pendente avanti dal Tribunale di Vibolenza. Emerge a conclusione dei vari accertamenti condotti dai vari professori che l'invaso dell'Alaco contiene un'acqua non classificabile a tre. A tre significa non destinata all'uso umano. L'attenzione si è poi spostata sulle tariffe dell'acqua applicate dalla Sorical e che, hanno riferito i 5 Stelle, la Corte Costituzionale ha giudicato abusive. Abbiamo denunciato che da oltre dieci anni i calabresi hanno pagato delle tariffe sull'acqua illegittime, non dovute. Stiamo sollecitando ormai da anni la Regione ma anche i comuni a ribellarsi, a fare ricorso alla Sorical affinché vengano restituiti questi soldi che i cittadini calabresi hanno pagato illegittimamente per le tariffe non dovute. Il titolo di iniziativa è proprio Acqua Raggia e la raggia è la rabbia dei calabresi che non vogliono abbassare la testa e che pretendono giustizia.